Il decreto legge è un intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell'esecuzione penale. Contiene anche delle norme di diritto penale sostanziale nell'ambito anche del processo civile. Questo intervento è frutto di una visione del governo Meloni, che ha una visione condivisa dalle coalizioni, dai nostri sottosegretari. È una condivisione che sul punto di vista della giustizia è orientata essenzialmente per quanto riguarda il provvedimento di oggi su quello che potremmo chiamare umanizzazioni carcerarie. Noi vogliamo facilitare il trasferimento della detenzione dalla brutalità, perché purtroppo il carcere è una limitazione di libertà estremamente dolorosa dell'istituto penitenziario a quella che è una comunità di accoglienza, sempre restando fermo peraltro che si tratta di regime detentivo, non è una liberazione anticipata. Semplicemente trasferiamo il detenuto, soprattutto i minori ma anche i tossicodipendenti, dall'istituzione carceraria a quella delle comunità. È un passo questo molto 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 importante, ci porta molto avanti nell'umanizzazione della pena, nella rieducazione del detenuto, nel reinserimento sociale e ultimo ma non ultimo anche a un rimedio al sovraffollamento carcerario. Il sovraffollamento delle carceri non è dovuto a una decisione governativa. Io ho esercitato la funzione di pubblico ministero e di magistrato per 40 anni, quindi è il magistrato che decide dello status libertatico. Certamente poi è il nostro compito quello di umanizzare la pena il più possibile.